Ben ritrovati con l'appuntamento minuto sale luce. Questa mattina nella sala stampa vaticana si è tenuto il briefing di presentazione dell'imminente viaggio del Papa. Il pontefice partirà domenica alla volta della Bulgaria e a Sofia trascorrerà tutta la giornata. Lunedì il Santo Padre sarà a Rakowski mentre martedì si sposterà nella Macedonia del Nord per fare tappa a Scopi e prima del ritorno a Roma previsto in serata. Oggi 3 maggio si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Il tema dell'edizione 2019 è media e democrazia, giornalismo ed elezioni in tempi di disinformazione. La data del 3 maggio commemora l'anniversario della dichiarazione di Windhoek sui principi della stampa libera emessi dai giornalisti africani nel 1991. Prima di salutarvi vi ricordo che su Salle Luce TV potrete seguire il viaggio di Papa Francesco in Bulgaria e Macedonia del Nord a partire da domenica. È tutto anche per oggi, l'appuntamento è a lunedì.